... Ma tu hai visto il film? Ma non ho mai riuscito a vederla a fine, perché? Anch'io. Allora, o dovevo uscire di casa, però è bello come film. Ma lui era un bel ragazzo. Si fa anche piangere. Ma lui mi ha detto che aveva i problemi di quelli che hanno con sanguigno. Non è che si sposano tra parenti. C'è il rischio che possono nascere i bambini. Doformi. Doformi. Malati o doformi? Ho provato con i bambini.